Nel corrente ambiente scolastico abbiamo affrontato il tema della sicurezza sul lavoro nella scuola, andando oltre il semplice aspetto formale. Il nostro percorso è iniziato con la visione dello spettacolo Vite Spezzate che ci ha sensibilizzato al problema. È seguito con un incontro di formazione e informazione nella scuola con un ispettore del lavoro della Spesal che ci ha fatto prendere coscienze con il problema e riflettere. È proseguito con un incontro di formazione organizzato dalla scuola su relegole dell'istituto scolastico e ci ha fatto riflettere sul contenuto del decreto legislativo 81. Poi ci sono stati incontri con il nostro tutor che, lavorando sul versante educativo, ha contribuito a rafforzare in noi una mentalità orientata alla sicurezza, improntata alla responsabilità, al rispetto per sé e per gli altri, alla legalità. In classe con noi c'è Michele, un ragazzo speciale. A lui abbiamo mostrato il piano di evacuazione, la segnaletica riguardante le vie di esodo, le maniglie antipanico delle porte. Gli abbiamo fatto impugnare un estintore e un idrante. Lui vorrebbe fare il pompiere, ma il suo purtroppo resterà solo un sogno. Dipende tutto da noi. Grazie.